La vita di Como si è visto scavalcare anche dalla Cremonese. Cremonese e Livorno sono davanti, il Cesena è terzo. Occorre una vittoria e il Cesena lo tiene sul Lumezzane proprio nella giornata della prima squalifica di Gamba. C'erano tanti timori, invece il Cesena realizza subito il gol, scaccia crisi, il gol scaccia paura, lo fa con Longhi al termine di un'azione splendida condotta da Iuri Tamburini. Il raddoppio alla quarantasettesimo sul calcio di punizione con il magico piede di Massimo Agostini. E il 3-0 arriva da un altro magico piede sul calcio di punizione, è quello di Alessandro Serra. Esplode lo stadio Dino Manuzzi, il Cesena è sempre terzo. La Cremonese e il Livorno sono davanti di due punti, ma ritorna la speranza e la fuga. La Cremonese e il Livorno sono davanti di due punti, ma ritorna la speranza e la fuga.